Si è immigrazione, della gestione degli sbarchi e della rete dell'accoglienza, due temi questi sui quali è intervenuto questa mattina nel corso della cerimonia del ventaglio anche il capo dello Stato Mattarella che ha detto dietro i numeri dei migranti ci sono singole persone che non vanno ignorate, mentre sulla questione climatica ha detto che il fenomeno del cambiamento va affrontato perché siamo in ritardo, ha detto il capo dello Stato, va messa in sicurezza il territorio. E poi il tema del contrasto alle mafie, a 30 anni dalle stragi del 1993 si parlerà della gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata e poi il capitolo difesa con la revisione dell'organico e delle forze armate. Rispondono qui nell'aula del Senato il ministro dell'interno Piantedosi, il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Picchetto Frattini e il ministro della difesa Crozet.